Lo sport con le rotelle è uno sport che affascina. Penso che i bambini, soprattutto in prima età, quando sono piccolini, sono affascinati dal fatto di mettersi i pattini, penso che sia un motivo trainante. Poi sicuramente quando vengono qui da noi trovano attenzione da parte di tutti, dal meccanico, dai dirigenti e abbiamo dei collaboratori a livello di allenatori che ci sanno fare e poi si innamorano di questo sport. Mi fa piacere che ci sono ancora sponsor come l'Estra che investano su questi valori perché per me sono fondamentali. Questo sport ora è in crescita. Abbiamo tanti bambini perché l'abbiamo un po' promozionato e vogliamo che i bambini facciano questo sport ma no perché sia più gente a giocare all'hockey. Non hai solamente due scarpe, hai due ruote sotto che se ti cadi ti fai male quindi devi trovare il valore te stesso e la forza te stesso per non farti male. Allora ti fa sicurezza in te stesso questo sport qua perché ti dà come forza perché hai altre cose che gli altri sport non ce l'hanno. Allora ti fa sicurezza in te stesso sport